E allora prendo in mano la chitarra e sotto questo lampadario che dino... Dopo aver prestato la propria voce due anni e mezzo fa cantando questa canzone intitolata Stonato, Leonardo Pieraccioni rinnova il suo impegno per la fondazione Cure to Children. Il 26 marzo infatti salirà anche lui sul palco del lobby hall a Firenze e prenderà parte allo spettacolo Il Mio Gesù, ideato dall'amico Beppe Dati e il cui ricavato servirà a finanziare il progetto Global Neuroblastoma Network con cui Cure to Children cerca di trasferire nei paesi meno sviluppati le competenze tecnico-scientifiche per curare appunto il neuroblastoma, ovvero la prima causa di morte nei bambini. I tumori in generale in molti paesi sono considerati incurabili, mentre nei bambini se ne cura oltre l'80%, però i neuroblastomi, che sono particolarmente maligne come malattie, erano considerati incurabili e quindi non si tentava neanche una cura. Oggi invece non è più così, anche grazie al lavoro di Cure to Children, che svolge un'opera meritoria, promossa anche dal consigliere regionale Stefano Mugnai, che ha invitato i toscani a ricordarsi di questa associazione quando dovranno decidere a chi devolvere il loro 5 per 1000. I bilanci di questa associazione sono sempre rosso in termini finanziari, ma in realtà i bilanci veri sono le vite di bambini salvati in tutti gli angoli del mondo e questi sono bilanci assolutamente positivi. Ma visto che poi contano anche i bilanci economici, ecco che il fondamentale diventa il contributo che arriverà dallo spettacolo di Beppe Dati e Leonardo Piraccioni del 26 marzo al lobby hall di Firenze.